Ancora buon pomeriggio, buon sabato da Moversi in Toscana e da Mauro Ciutini. Sono state risolte le code in A1 dopo l'incidente tra l'allacciamento con la 11 Firenze Pisa Nord e Firenze Scandicci in direzione Roma. In A11 viene segnalato un veicolo in difficoltà tra Monte Catini e Pistoia, la direzione è quella per Firenze. Veniamo al raccordo Siena-Firenze, l'entrata sarà chiusa per lavori allo svincolo di Badesse in direzione Firenze dal lunedì 5 giugno fino al 16 giugno. Un'altra chiusura in A1 dal lunedì per 4 notti, orario 22.6, chiusa la stazione di Arezzo per lavori di pavimentazione. Lavori alla tramvia di Firenze dal lunedì fino al 7 giugno, orario notturno, lavori relativi alle sistemazioni urbanistiche in via Gordigiani saranno in vigore di vieti di sosta e di transito. Muoversi in Toscana grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Buon viaggio, a più tardi.